Allora, a che penso di preparo? Niente penso, stiamo facendo un barbecue Per uova, magari No, ci mettiamo spezzi sopra e cose così e basta Prepariamo magari uova e bacon e cose così No, per fare brunch Non farlo, ma c'è la pasta lì Sì, facciamo schifo No, per fare brunch No, per fare brunch Grazie. Non va bene però così. Non so se riusciamo ad appizzare il fuoco. No perché il zio è ancora defrosted. Non so se riusciamo a fare il fuoco. 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 Origano. Origano. Lime. 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 Quanto è rimasto? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, non so aspettare, poi buttiamo il rives e il pollo sul barbecue. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Ecco, si mette un bicchiere d'acqua con un cassotto. Ecco, si mette un bicchiere d'acqua con un cassotto. Quindi così è preciso. Sì. Puoi togliere questo? No. Perché volevo mangiarlo così. Perché volevo mangiare un bicchiere d'acqua con un cassotto. Perché volevo mangiare un bicchiere d'acqua con un cassotto.